Saluti ragazzi sono Ninja e ben entrati in questo nuovo video di Minecraft e questo oggi siamo con tutti quanti 1,2,3 e 4 A posto, oggi Oggi andiamo a esplorare la mansione La magione Ho fatto doppio Andiamo, possiamo partire? Allora, venite No, no, una sorpresa per voi, venite Ho una sorpresa per voi, venite Venite, venite tutti qua Non l'ho detto a nessuno, venite Allora, vi chiamerò per nome e una alla volta dovete venire Paolo Per te è questo Enrico Per te è questo Grazie Aspettate, grazie Ninja Buongiorno Per te è questo Grazie, mi mancava una freccia Simone Simone Ma dov'è Simone? È che Valerio mi picchia, mi tira le arcate e io muoio Non possiamo andare finché non arrivi Mannaggia la miseria Le mie lanterne, le mie lanterne Simone 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 Simone, vieni qua Oh, qua Tieni queste cinque che te le avevo rubate Ma ci credo, è un bel regalo No, non mi è ammazzato Io inizio a partire Allora Allora La magione dovrebbe essere verso questa zona No, ma dove siete? Oh, io e Simone siamo indietro già Io andavo bene Venite Io devo aspettare Valerio No, tutti voi dobbiamo aspettare Simone Simo, un'armatura, Simo? No, mi fai un'armatura Va bene, fai tu No, noi partiamo Non dovrebbe essere troppo lontana Allora, per vedere Ninja facciamo così Ok Allora, non dovrebbe essere troppo lontana Ma noi ci vediamo appena siamo arrivati Allora, siamo arrivati finalmente alla magione Dopo, guardate le coordinate 6.000 blocchi sono passati Perché siamo tipo a 1.100 A casa nostra Qui siamo 2.4.500 Quindi siamo arrivati alla magione Lo esploriamo però È notte Quindi ora dormiremo No, perché poi c'erano lo sponno qua Non possiamo dormire No, aspettatemi Io sono ancora fuori Sono Eh, vabbè Noi stiamo Stiamo raidando noi Io sto Io vi vado dall'altro lato All'altro lato Qui non c'è niente Non dovrebbe succedere in queste casse Zucca Meloni Meloni servono per tritare Sì, sì Prenditi Il bennico Qui è periodo il corridoio Dico, io ti sto seguendo Mi amore Ci dovrebbe essere abbastanza segreta All'ultimo piano Con il blocco di diamante Però prima speriamo piano per piano Ma non ci sta nessun modo Guarda, venite qui Ragà, è pieno di alberi di Dark Hook Sì, è vero Ragà, perché non è suffering? Venite, venite a prendere Venite a prendere Vale, prendi queste cose C'è niente qua dentro Lui non sa servo Neanche i semi C'è niente Sento pillager Sento rumori di pillager Sì Mi ricordo che in una di queste casse C'era una C'è un evoker C'è un evoker da me Dove? L'ho ucciso Mi ha dato il totem della norma Mi ha dato il totem di evoke Mi ha dato il totem Però il totem dobbiamo averne minimo una a testa Perché così non lo vediamo Eh, il mio me lo tengo Sì, ovviamente Sì, ovviamente sì Eh, ninja sta facendo il video Sì, sì Ragà, sto raggiando Come sempre No, ma anche io, raga Io intanto vado sopra Prima di solito Mi seguite? Eh, io ti accompagno Ma non suonano più Cioè, c'è la spruzione voca Facciamo una cosa, mi mangio Ragà, vi aspettate Vi aspettate Sì, se troviamo qualcosa Di video Clipper Non stiamo facendo niente Vale Sì, ma non mi puoi rientrare Eh, allora, aspetta Refresh e poi entri Ok Ci sono Mamma mia, i vex Che cose brutte che sono Non ne aveva nemmeno uno Aspettatemi Ci sono stato qui per questa mangiola No, no, c'è Easy È Easy Eh, Spawn non è come Easy Sì, ma la probabilità è bassa Che cosa vuol dire? Non c'entra niente La difficoltà sarebbe Quanti cuori hanno Non vuol dire Quanta probabilità di Spawn c'è Che è già esplosa a mezza maggio Ci non volevamo dare alle cuote C'è, è già esplosa Libri Enri, sei qua te che così Cambiamo corridoio? Io sto in un corridoio a casa Non so neanche dove Qua c'è una bomba Ah sì Una bomba Dove siete? Oh, le scale ho trovato No, no, no C'è una libreria qua Prendete i libri Eh, io alcune le ho prese Io sono già al terzo L'ultimo piano No, aspettateci Aspettateci Perché qui le librerie Comunque ci danno Io sto prendendo altre Sto prendendo librerie Al più al terzo piano Sì, però Enri Aspettaci No Non c'è la scala Sì, è qua Guarda dove sono io Mi vedi? Io ho preso praticamente Due scala e mezzo di libri Basta Qui il corridoio finisce? No, se devi fare la scala Ci dovrebbe essere qualcosa Mi sembra No, non c'è No Prendi tu Guardi voi Ha finito qui comunque la manzone No, no Ci sta anche un'altra cosa Oh, librerie, librerie Tante librerie Una mappa? E poi qua Scusate ma dentro sta manzione Ci sono già dei blocchi Che sei? L'ho vestito, sono salito io Ah, ok Qui non c'è niente No, no, no Ci sta, ci sta Enrico Enrico, mannaggia la miseria C'è un enderman Ci dovrebbe essere Prima di tutto la statua del gatto Ehi, ma c'è? Eccola No, sai che è il villager? Aspetta Ho dei blocchi Sì Troppo forte Sposta Eh No, che non c'è niente No, che non c'è niente Sono i broker Raga, dove sono i broker I pillager Dovrebbe essere Solo i broker L'ho vestito Sul tetto Ci sta la stanza segreta Da qualche parte Oh, io ho trovato Oh, c'è spretti in diamante Ho trovato C'era Ci sono Name tag C'era una cassa Qui ninja Qua Aspetta C'era una mini Mini sul palco Segreta Con una cassa E niente Sono come lo vertigo E anche di tanto E questa ma c'è un'altra Troppo schifo Quindi Già ho preso io L'ho già ruttata Sai vedere Una della zona Ci sarà anche un'altra cosa Qua su doveva esserci Tipo No C'era una cassa Che finire La zona Adesso non mi ricordo dove Che ci sarà Tanto segreta Con della lava Ma come avete fatto Blocchi Stavolta si vede Da qualche parte Con della lava E del diamante Oh, sono io L'assata segreta Che non c'è niente Che non c'è niente No, li ho capito Che sono gli evoker E le robe Eh, spawnano Il pieno terra Che tu cazzo sono Andiamo al pieno terra Valeria, moderati Scusami, scusami Taglia cosa basta Deve tagliare Metavo in giro Perché lasciate Perché lasciate L'oro qua Scusate L'oro L'oro Sì, c'era Quattro di oro In una cassa Sì, ho visto Ah, vabbè No, allora È un po' inutile Madonna, io però Devo stare attento Perché io so No, qui non spuono più niente Magari Magari per La cassa Sì, è davvero schifo Sì, è veramente schifo Sì, è la prima volta che vedo una mind shot Che fa così schifo Una mind shot Sì, una mind shot No, l'esplorazione è stata bella Eh, l'esplorazione La man shot No Eh, infatti Ninja c'è Eh, io ho trovato Ho trovato Io ho il totem della morte C'è una persona che è molto bella Sì, è una persona che è molto bella Eh, adesso sì Dai Ma ora Cosa? Olè Dagli È capodanno Sta pure buggando Comunque Comunque Ti consiglierei di uscire Se fossi in voi comunque Cioè, io Uscirei Oh, Valerio Valerio Comunque fa cacare Uscite 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 Non dal mondo Dalla magione Fidatemi Forse è meglio Stavo per buttare Ninja aiuto Come faccio Ehm, buttati Eh, io ho poca pittà Eh, ci ho messo l'acqua Sicuro? Sì Ah Ho trovato un altro Sopalco Oh Zappa in diamante Vabbè, sì Sì, lo trovi tutto tu oggi Comunque regalo E anche dalla finestra Io forse Cioè, meglio Sì Ho trovato due Sopalchi Sta bruciando un po' tutto Quindi per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao Sopalchi 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 Sopalchi